Sì, grazie Presidente. Il consigliere De Priamo fa riferimento a un ordine del giorno di tanto tempo fa in cui Fratelli di Taviglia chiedeva l'acquisto delle fototrappole e l'acquisto non è il sistema migliore e noi a quell'ordine del giorno, tra l'altro io intervenne anche in aula e lo spiegai che non era di certo l'acquisto il sistema migliore per poter gestire le fototrappole per tutta una serie di ragioni dettate all'utilizzo dello strumento, perché ci vuole qualcuno che ogni settimana va lì, cambia la batteria, prende le immagini, le porta alla polizia locale. In quel periodo proprio in cui noi votammo l'ordine del giorno su cui ci astenemmo perché chiedeva l'acquisto delle fototrappole, il mercato ha offerto la possibilità di noleggiare le fototrappole, che è un sistema che si sta incastrando in modo perfetto con l'amministrazione di Roma Capitale, per cui sono stati stipulati dei contratti, peraltro comunico che stanno per arrivare altre 35 fototrappole, è un sistema che noi abbiamo individuato, un soggetto specifico che deve trattare le immagini delle fototrappole ed è il gruppo della polizia locale, il nucleo ambiente decoro, sul quale la sindaca si è impegnata tanta per la sua costituzione, c'è stata anche una delibera di assemblea capitolina a mia prima firma, per cui c'è stata una grande attenzione, questo gruppo sta facendo un lavoro davvero straordinario, come peraltro tante volte è capitato, la sindaca stessa ha pubblicato dei video, anche io ho pubblicato dei video e molti di noi lo abbiamo fatto relativamente all'individuazione dei soggetti che hanno sversato in modo illecito i rifiuti, detto francamente questa amministrazione sta facendo un gran lavoro da questo punto di vista e ha intenzione di perseguire questa strada, ci sembra un po' come dire, non poi così corretto l'idea di poter mettere un ordine del giorno all'interno di una delibera del genere, pertanto visto che noi stiamo già lavorando e già è ben avviato questo lavoro, su quest'ordine del giorno ci asterremo, grazie.